Questo è il primo anno che faccio scuola d'estate. Mi sta piacendo perché ho scoperto nuovi sport come l'autodifesa personale e il windsurf. Grazie a questi sport sto imparando ad avere più equilibrio sia sulla tavola che nella vita di tutti i giorni. Fare beach tennis e windsurf mi ha permesso di uscire dalla mentalità solo calcio e per questo ovviamente devo ringraziare la scuola. Sono degli sport che io da piccolo avevo già fatto e quindi mi sono stati riproposti. Mi sono piaciuti molto perché posso spaziare tra diversi sport non solo quando li faccio con la scuola ma posso riproporli quando sono in compagnia dei miei amici. Grazie alla scuola ho scoperto soprattutto il windsurf che è un'attività che mi è piaciuta molto quest'anno e mi ha permesso di aumentare la mia conoscenza e spero di poterlo continuare in futuro perché è un'attività molto bella e istruttiva. È divertente anche perché ci ha fatto imparare i venti e conoscere un po' l'ambiente del windsurf. Noi come docenti di scienze motorie siamo chiaramente entusiasti che ragazzi frequentino questi corsi perché chiaramente con lo sport insegna numerosi valori rispetto a delle regole. Per noi sardi in primis il rispetto per il mare. Noi ormai diamo per scontato il mare ma in effetti con questo corso i ragazzi hanno imparato che bisogna rispettare il mare. Da noi al Martini già dall'anno scorso abbiamo sfruttato l'opportunità del piano estate proprio per offrire ai ragazzi tutta una serie di attività. Abbiamo iniziato l'anno scorso con il beach tennis poi l'anno scorso abbiamo fatto due progetti con windsurfing. Abbiamo fatto quest'anno arrampicata abbiamo fatto di immersione poi abbiamo fatto un corso di difesa personale che appunto ci è stato chiesto dalle ragazze.